Massimo Guerrieri è titolare dal 2004 dello studio di consulenza finanziaria indipendente Q Consulenze Finanziarie, ma da oltre 30 anni è un professionista in ambito finanziario. Guerrieri, lei in tutti questi anni ha visto avvicendarsi scenari di ogni tipo, ma questo come lo definirebbe in questo momento, ai tempi del coronavirus? Diciamo che io entrai in banca nell'88, quindi post-crisi Crollo Wall Street dell'87 e da allora ho passato diverse bolle speculativi, crisi finanziarie, passando dal 2000 al 2008, crisi dell'Italia con il crollo del governo Berlusconi, del 2011 fino ad arrivare ai tempi nostri. Negli ultimi 15 anni noi affrontiamo queste sfide da indipendenti e questo ci dà sicuramente una visione più pragmatica sopra le parti. Quello che stiamo notando adesso, ma basta guardare un indice di borsa, l'SP500, non è altro che un aumento di volatilità dove la speculazione la sta facendo da padrone. Molti esperti parlano di un nuovo scenario economico a seguito della diffusione di questo Covid-19. Qual è il vostro punto di vista? Anche qui è bene fare chiarezza. Sicuramente il coronavirus è uno scenario nuovo perché è un virus che per la prima volta viene affrontato e che sicuramente decreterà un calo dei fatturati e delle aziende e degli utili dei PIL dei paesi. Ma d'altro canto gli eccessi che erano presenti sui mercati, tra l'altro da noi denunciati in quest'ultimo anno, erano già presenti appunto da diversi mesi. Questo nuovo impatto del coronavirus non fa altro che far emergere questi eccessi, l'aumento del debito piuttosto che la difficoltà nel generare PIL e laddove la speculazione ovviamente sta facendo il suo, cioè fare soldi con i soldi visto che gli viene permesso. Dal vostro osservatorio qual è il grado di consapevolezza dei risparmiatori in questo momento? Come si stanno comportando in questo scenario? Ecco, questo è quello che ci preoccupa di più perché vediamo come questa paura generalizzata, per l'amor del cielo, giustificata, legata non solo alla paura del coronavirus, di essere contagiati, ma anche di perdere i propri risparmi, crea una situazione di blocco. La sappiamo che la paura è bloccante e quindi anziché reagire e andare a verificare quali sono gli elementi che possono generare perdite, cioè andare a misurare il rischio che si ha nei propri portafogli titoli, si preferisce non fare nulla e guardare passivi i propri risparmi che stanno calando. Tra l'altro è bene ricordare che siamo solo all'inizio di questo nuovo clima. Quello che ci attendiamo è che questa pandemia dichiarata dall'OMS si allarghi a tutto il mondo e che di conseguenza questo calo dei fatturati, delle aziende, quindi anche degli utili e anche dei PIL degli stati. Oggi è difficilmente quantificabile, ma sappiamo che ci sarà e sarà a livello su scala mondiale. Quindi Guerrieri è sensato fare paragoni con l'ultima grande crisi, quella del 2008? Da un punto di vista tecnico sì, perché se andiamo a vedere anche in questa fase cosa assistiamo? Manovre urgenti da parte delle banche centrali, una volatilità che è aumentata all'improvviso e se fino all'altro ieri, per dire un mese fa, c'era eccesso di liquidità e tutto sembrava andare bene, ricordiamo che l'SP500, il maggiore indice azionario americano, quindi anche del mondo, era ai massimi storici. Oggi siamo alla ricerca forsennata di liquidità ed ecco perché queste vendite forsennate e queste manovre delle banche centrali. Ricordiamo che stasettimana la banca centrale americana ha portato i tassi a zero con una riduzione importante di un punto percentuale in unica seduta, parlo della scorsa domenica, ma anche tutte le banche centrali stanno stampando denaro a rota di collo. La Fed ha appena varato un quarto di visi da 700 miliardi, quindi cifre importanti e anche la stessa volatilità sui mercati, questo grafico ci può essere d'aiuto, è paragonabile proprio al 2008.